Questa mattina avete presentato dei dati, avete fatto un report sulla situazione vaccinazione nella nostra provincia, nel nostro distretto. Che dati sono venuti fuori? Noi siamo abbastanza soddisfatti rispetto a quella che è la copertura vaccinale perché c'è stato un forte recupero grazie a questa legge sia per quanto concerne l'esavalente sia per quanto concerne morbillo rosolia parotite. Quindi diciamo che le coperture in ambito di Fano sono salite al di sopra del 90% rispetto ai dati precedenti e quindi diciamo che ci avviciniamo a quella soglia che è il 95%. Abbiamo di fatto recuperato circa il 50% degli inadempienti, questo è un dato che va da diciamo settembre fino a dicembre. Per cui riteniamo che entro marzo, noi siamo riusciti entro il 10 marzo a dare l'appuntamento a tutti gli inadempienti, quindi confidiamo di poter recuperare ulteriori coperture vaccinali. Quindi sta di fatto che la soglia del 95% si sta arrivando. Abbiamo un dato un po' più basso nella realtà di Pesero, ma storicamente lì c'è stato un maggior problema di dissenso nei confronti delle vaccinazioni. Abbiamo visto sostanzialmente che molti dei genitori erano titubanti, anche perché prima per esempio il morbillo rosolia parotite non era obbligatorio, per cui magari pensavano che non fosse altrettanto importante quanto le altre vaccinazioni come l'esavalente. Quindi molti di questi genitori sono venuti, stiamo vaccinando e quindi c'è un buon recupero. C'è una data importante, fra un po' una scadenza nella quale si dovrà tirare una riga? Sì, il 10 marzo, soprattutto per i bambini che sono da 0 a 6 anni, tutti quelli che hanno dichiarato a settembre attraverso un'autocertificazione che si sarebbero messi in regola, che si sarebbero quindi vaccinati, è chiaro che dovranno dimostrare entro il 10 marzo di aver ottemperato a quell'autocertificazione. Dopodiché scatta chiaramente una situazione di incompatibilità rispetto alla scuola e noi attiveremo oltretutto anche dei colloqui che sono previsti dalla legge, perché chi non accede alla vaccinazione, all'appuntamento che gli abbiamo dato, dovremo fargli una raccomandata con ricevuta di ritorno per capire il motivo per cui non sono venuti.